2,5 milioni di euro per i giovani talenti del Lazio. Arrivano dalla regione le risorse messe a disposizione attraverso due bandi presentati in mattinata dall'assessore regionale alla cultura Rydia Ravera. Il bando delle idee è da oltre 800 mila euro e il bando delle officine dell'arte e dei mestieri da circa 1 milione e 600 mila euro. I bandi sono frutto di risorse dal denaro pubblico non speso grazie anche al cofinanziamento del Dipartimento della Gioventù e della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il bando delle idee è rivolta alle associazioni giovanili ed intende promuovere idee creative ed innovative nel campo della cultura, delle arti e del tempo libero. Il secondo bando delle officine dell'arte e dei mestieri si rivolge ai comuni del Lazio che potranno partecipare soli o aggregati fra loro presentando spazi idonei secondo le indicazioni fornite dove realizzare nuove officine. Questi bandi premiano l'imprenditoria giovanile, le idee, fanno realizzare buone piccole cose, ovviamente non sono molti soldi per ora e poi la nostra scelta è un po' di dare poco a tanti invece che tanto a pochi, quindi di innervare di iniziative tutta la regione, questo con la situazione difficile finanziaria che attraversa tutto il paese e il Lazio ancora di più anche per pregresse e amministrazioni. Quindi non sono grandi cifre però è un inizio, comunque secondo me è importante che i giovani sentano che c'è qualcuno che pensa a loro, che entra in relazione con loro, che è sensibile alle loro indicazioni e che cerca di finanziare start up per l'imprenditoria giovanile.